Si è appena conclusa l'ennesima discussione con un rinvio della Commissione come ci auguravamo all'inizio della stessa. Io ho fortemente invitato la maggioranza a riflettere, visto che abbiamo appreso in ultime ore che le dotazioni economiche in movimento pare stanzino diversi milioni di euro, abbiamo chiesto di discuterne per far sì che puntualmente questi finanziamenti possano arrivare meglio ai tanti sofferenti abruzzesi. Va anche detto e sottolineato che c'è stata una discussione su quello che è appunto il bando che sta per uscire fra una questione di ore, dove abbiamo detto e sottolineato che il primo bando per le piccole e medie imprese vede tagliate fuori tutte coloro che si sono costituite negli ultimi tre anni. Quindi penso che sia un paradosso, ho invitato la maggioranza a ragionare per far sì che i prossimi bandi includano invece le aziende, le realtà e i professionisti neonati. Tra l'altro mi preme ricordare che compie oggi il compleanno, lo dico purtroppo in maniera sarcastica, il bando per le imprese del cratere. Dopo un anno non si sa appunto che fine abbiano fatto questi fondi che ammontano quasi a 3 milioni e mezzo di euro. Ricordiamo il decreto legislativo 189, l'articolo 20, molti abruzzesi appunto che ricadono con le loro attività nel cratere sismico aspettano ormai da un anno che ci sia notizia e tra l'altro ho convocato in commissione vigilanza l'assessore Febbo per riferire in merito alla sospensione della misura 3.1.1 che praticamente vede appunto sospeso questo bando che era in corsa, addirittura aveva ricevuto anche una proroga, quindi io ho già detto nei giorni precedenti che è assurdo quello che è accaduto, che si revochi un bando in corsa e oggi tra l'altro dopo una lunga battaglia ho ricevuto la rassicurazione che verrà ripubblicato.